Salve Ciao ragazzi a tutti benvenuti in questo episodio della Liga of Learning Oggi come ieri Come ieri? Mi pare come ieri Oggi come ieri vi porto un out Cioè vi porto un champion abbastanza facile in top lane Ovvero un out Lo so praticamente lo stesso principio di Di malfare Cioè non lo so principio ma è molto facile giocare sia meccanicamente che Che tutto il resto Cioè non ha queste gran meccaniche Alla fine ha uno skishot solo E tutto il resto è scudi CC e basta Quindi già di per sé Il colosso su questo Colosso Funziona alla stragrande Allora io non so contro chi sono Non so se sono contro Akali O contro Yasuo Se sono contro Yasuo alla lunga potrebbe darmi problemi E Non so Se ero contro Yasuo Iniziavo di Doran Shield Ma visto che non so come potrei essere contro Akali Se sono contro Akali potrei andarci anche abbastanza aggressivo e E Iniziare di 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 Che stanno in flasco non lo so Non lo so Non so contro chi sono Se sono contro Akali Maxerola e E per fargli danno perché lei prima del 6 non mi farà un cazzo e quindi devo abusare di sta cosa Se sono contro Yasuo potrei Maxare la W per avere Più difese e molto più shield Dipende 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 Con gli Che hanno Che hanno non molta Oddio come si dice Non molto Non molto attaccio Non molto potenziale di killarmi E quindi E quindi uso quello Oltrimenti Mi fa qualche danno Ah Ah interessante Ok ho leggermente sottovalutato i danni di Akali Ma proprio leggermente Ma molto leggermente Questa cosa potrebbe essere bad Ok potrebbe essere molto bad questa cosa La nuova Akali non è da sottovalutare ragazzi Perché ha più sustain Ha molto più sustain Ha parecchio più sustain Orca troia Spero di non morire Ok Akali non ignite Ragazzi la sto sottovalutando un po' troppo La sto sottovalutando un po' troppo Quindi mi sa che Rivedo i miei piani Rivedo i miei piani E Max ho la W doppia A questo punto Max ho la W doppia Che davvero non credevo Non credevo mi facesse tutti questi danni E poi il marchio Ma che roba Cioè va che roba Il marchio è una cosa incredibile Cioè va 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 Oh mio dio Meno male che non l'ho preso Mi fa dei danni incredibili Il marchio mi fa un sacco di danni Ok ok niente Devo rivedere un po' le cose Devo rivedere un po' le cose E devo tornare con un cazzo purtroppo Devo tornare con un cazzo No proprio con un cazzo Guarda metto questo anche se è una cosa un po' stupida Però mi da più Più rigenerazione dal Più rigenerazione dalle pozioni Il che non è male Questo cavolo cristallo in flasca Però devo stare attento Quando ci vado così addosso Devo fare per forza così Ancora porca troia Stupido che sono Devo fare per forza Mi fa un danno incredibile mi fa Ma è possibile Mi fa troppo danno Mi fa troppo danno Mi sono perso una vacca Cioè no l'ho già usata ma Porca Eva Sto formando anche maluccio Avrò bisogno di una gank subito Avrò bisogno di una gank subito Questa qua non la ammazzano mai da solo Non la ammazzano mai da solo io questo tipo Non la ammazzano mai da solo io questo tipo Non la ammazzano mai nella vita Mai 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 Porca va che roba Mi sta facendo il culo Mi sta facendo Ok Che culo Vabbè almeno ho flashato Almeno ho flashato Almeno ho flashato No 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 Comunque mi sta facendo il culo Fortuna che lei il tp non ce l'ha Quindi ho più o meno un Ho un vantaggio Piccolo Piccolo ma ho un vantaggio Ok Io sono di sguardo più forte di lane late game Se riesco a fare le cose bene Beh se non riesco no Ora torno e mi faccio il getto della sunfire Per forza Perché tanto lei ha danni misti Quindi se mi faccio armor o resistenza magica È quasi inutile Cioè non è che è inutile ma Non riesco a A cauterizzare gli danni A tal modo da Da decidere se mettere o armor o resistenza magica La cosa migliore con questi Champion ibridi che fanno danno doppio E mettere vita La cosa migliore è mettere vita all'inizio Che si è messo a spedrono la gambe No ma non male Ma è però sta facendo veramente tanto aprire Su 84 di ap Ma come fa così male 84 di ap 9 di armi Cioè perché avete Ha solamente rune di ap Lui di aprire Giallo di armi Basta Che non ha più niente Sta anche frizzando Sta stronza E tra poco Mi fa 83 di co Sta anche frizzando E tra poco Con lei Orca Non ha il Non ha in sé Quindi Ops ho sbagliato Mi sono sta anche frizzando Quindi avrò un po' di problema Non a struttare Però beh questo Questo lo prendo Questo lo prendo Oh mio dio Ok Ho fatto facendo un po' di errori meccanici E ho appena finito di dire Che meccanicamente non è il massimo Questo champion eppure Eppure sto facendo un sacco di errori meccanici Vabbè ok Farmo sto messo un po' Fare con l'altro Oh vabbè A me sta bene che abbia recollato Perché posso avvitarne per pushare Alla fine sto maxando misto Un attimo faccio questi qui Sempre se Va bene Va bene Bravo Tu si che sei bravo alla struttare Ok E ora vorrei tornare Neanch'io ma non posso Perché non ho 700 E a 700 E a 700 si prende sto coso Alla che avessi formato meglio Adesso ce l'avrei avuto Il tipice noto a 90 secondi Meglio mettersi in alto Crystal in flask Lei adesso è pericolosa Con l'ex tech E adesso è veramente pericolosa Quindi devo stare attento Piuttosto perdo qualche minion E lei lo sa Infatti sta Sta frizzando Ma va bene così Non posso Non posso permettermi Di andare avanti Purtroppo non posso Perfetto La wave sta push No sto cazzo Sto cazzo La wave non sta pushando Ma lo so che sei qua Madonna i danni che mi ha fatto Ok attaccandomi Ha pushato la wave Almeno quello E il cannone Dovrei riuscire a prenderlo Per fortuna A volte è meglio Farsi attaccare Soprattutto se si hanno Degli scudi E poi lasciare che Che i minion Vi vengano sotto torre Avrei dovuto mettere La masteris Del Del sotto torre Qua non Mino non li faccio venire Perché altrimenti Porca eva Mi fa malissimo Bene 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 Molto bene Io ho un problema Qua però Cioè non posso farci un cazzo Con questa stronza Non posso davvero Farci un cazzo Non posso davvero Farci un cazzo Mi distrugge E non pensavo Se devo essere sincero Non pensavo Che mi avrebbe causato Così tanti problemi Oh mio dio Non pensavo Davvero Che mi avrebbe causato Così tanti problemi Eh mate Eh sei su Boh Ti sei fatto prendere la Io ci potevo far fuoco Forse riesco a baitarla No no riesco a baitarla Minca 73 HP si prende a colpo Ora pure il red Ragazzi sono fottuto Sono letteralmente fottuto Quindi io torno indietro E prendo la Sunfire Per forza Non ci sono difese Che tengono con questa tizia Per adesso Spero solo in late game Di fare cose di meglio Perché Per ora sono veramente Nella merda Scarpe Non mi servono Non mi servono a niente Le scarpe Però Non ho Meno male che Il genio sta facendo bene Perché per ora Non ho problemi di mobilità Questo mi sa Che non lo prendo nemmeno Eh no C'è la Sunfire Ok Ora Ok 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 sta minchia Spero che lei abbia recollato Spero che lei abbia recollato E meno male che il Colossus Perché se non l'avesse avuto Se non l'avesse avuto il Colossus Sarei stato nella merda più totale Non è così facile farmare con altri Lo sembra Però non è così facile No Rihanna sta recollando Cazzo volevo andare a gancare Midlane In sé che non ho nulla da fare Almeno che il cavo mid Però non posso Vabbè a picchi un po' sta torre Ok non posso pubblicare Va 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 Via 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 Me ne vado Non ne vado Ovviamente sta facendo la Gumblade Niente di speciale Schimano di fortuna È venuto una volta sulla top Non ho combinato niente Ora io spero che lei push Mi devo far attaccare Ok perfetto Così la way push In contro di me In teoria Ma a quanto pare no A quanto pare no A quanto pare no Attaccami di nuovo Ma sta arrivando Rumble Ma quante volte ce l'hai sta cazzo di cosa Tu mi inchiai adesso Ah no Eh eh stavolta muori Ok perfetto Ha anche flashato Benissimo Ah purtroppo loro non hanno approfittato L'ho fatto il Cloud Drake Però almeno io ho un po' di respiro Tanto per un Cloud Drake Non so se è worth Ma penso di sì Cloud Drake non è che sia Questa grandissima Enorme importanza È importante per carità Eh ma non così tanto E almeno mi ha dato un po' di respiro Ok perfetto Ora faccio più danni che posso a questa torre Poi torno mi faccio subito la Sunfire E poi ovviamente Spirit Visage Sì loro hanno 2P Spirino va O balesci meno Penso più Spirit Visile Perché mi dà più vita Ok Questa lei non riesco a pusharla In questo modo Un lato botto Alla che musica vuole dire Ok Ok perfetto Ora me ne vado Continuano 66 Le 71 Non è malaccio Non è malaccio Potono fare sicuramente meglio Torniamo Forse ho già la Sunfire No sto cazzo 1500 Madonna Non pensavo se così tanto Va bene va bene Prendiamo questo E poi mettiamo un altro giallo della vita Così aumento il Colossus E Aumento il Colossus E aumento comunque La quantità di danni Che mi Cioè diminuisco la quantità di danni Che mi farà Ah questa wave me la perdo Mi so Questa wave me la perdo Quindi ancoriamoci Qua E risparmiamo un po' di tempo Bravo Jin Diamonds Questo Jin ci sta dal game Per fortuna Orianna sta farmando bene Anche Yasuo Eh quello non è una fortuna Bravo bravo Jin Perfetto Io faccio peeling per Jin In late game Vaffanculo a tutti Vaffanculo a tutti Quanto Ora posso quasi Non dico tradarla ma Già comunque fare qualcosa in più Perfetto Perfettissimo Perfetto perfettissimo Finchè ho il Colossus Le cose andranno Non dico benissimo ma Abbastanza bene Guarda che ci sto dietro col farm Eh infatti lo sapevo Era molto strano Era molto strano Che Che fosse andata già via Perfetto non ancora sta pushando Se push fa il mio gioco Se push fa il mio gioco Io non la posso uccidere Io non la posso uccidere Perché ha troppo sustain Io sustain non ne ho Solo questa mia flasca Però se facciamo così va bene Perché Akali è forte Quando snowball Ora non sta sanno bollando Per niente perché Comunque io sono abbastanza Non è uscito da qua Non è uscito Ah invece si Perché io sono abbastanza Non dico grosso ma Ma le sto dietro Meno male Meno male Perché mi sa che Se tornavo Mi scotennava Ok sta recollando Ok è meglio che non Ok volevo usare la Q Per Per stopparli il recall Ma meglio così Sta finendo le flasche Però tra poco di nuovo il TP Mi dispiace che non posso Usare il TP in altre lane Mi dispiace tanto ma A quanto pare bottle Non hanno avuto bisogno Mid Se la sta più o meno cavando Quindi Non ne ho neanche bisogno Eh papà pure Ok Non voglio Cioè non è che non voglio Non posso ucciderla 111 Devo tornare E farmi la Sunfire Se torno Mi faccio la Sunfire Poi torno Torno qua E qualcosa Riesco a fare Sicuramente Voglio evitarli Di Evitare che lei Prende questi Mino Quindi tipo Direttamente qua Ok Adesso con la Sunfire Sarà tutto più facile Ho un bel po' Di vita Mid lane E gancare questo Però c'è anche Karma Adesso Ma dovrei farcela Dovrei farcela Ok Porca droga Vabbè ho preso Jinx Nel mentre Perfetto Meno male che adesso L'ultimo Maffanculo Meno male che adesso L'ultimo Di Meno male che adesso L'ultimo Di Nautilus Stunna tutti quelli Che passano in mezzo Quindi per fortuna Perché io ho mirato Ias Ma lui ha flashato Vabbè È stato È stato Buono È stato buono È stato un monte Infatti io ho tre assi Sto farmando Dark Seal Un po' di AP Non fa mai male Comunque Danni AP ne ho Pochissima ne ho Pochissima ne ho Ok L'eva 20 ulterà Ok perfetto Visto che sono abbastanza grosso Posso benissimo Permettermi di fare queste cose Nel ultimo supporto anche per questo Vediamo se lei torna C'è il Drake tra poco C'è il Drake ma io voglio Voglio farmarmi questa wave Perché già non ne ho Perfetto Orianna Mi sta coprendo la top Perfetto Sono a fare questo robo E Vabbè qua non hanno bisogno Akali è tenta top Perché era kali top Che era kali top Perché Orianna La esplode La può anche derivare Tranquillamente E mi sa che lo farà E io non ho Io non ho Anche la scarpa Ok E io non ho Come si dice Non ho il TP Potrebbe benissimo Di farla da qua Ma come benissimo Appunto Eh no no More Un brutto flash Ma forse no Vede visto comunque Che ha fatto Quello che Ha fatto quello Che immaginavo Che la stava aspettando Lì per 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 ulinarla Mi dispiace Shyvana Sarà per la prossima volta Oh mio Sto farmando un po' male Lo ammetto Sakarumble Crepa Decisamente Crepa Ok sei morto Anche il Gnike Ho qualcuno Che mi follow up O sto andando a casa Ok Qualcuno Va bene Va bene Va bene Va bene Perché se Avrebbe scazzato parecchio Usare la ultima Per un cazzo Eh lo so La volta Stando avanti Quindi noi Dovemmo finire La top Per forza Altrimenti Non abbiamo Combinato niente Però ce la prendiamo Stator Gin e mid Forse se lui Si prende quella Mid Oppure gli fa pareti Danno Però c'è ancora Akali A piede libero Sono ancora Akali E Yasuo A piede libero Quindi Non consiglio A Ging Starsene là Oh Perfetto Adesso Passiamo qua Vediamo se c'è Il loro red C'è il loro red C'è il loro red Ma Oh Vabbè è stata colpa mia Qua Ho letteralmente Lasciato solo a morire Quindi qua è stata colpa mia Torniamo indietro Mi sa che metterò Ninja Tavi Perché hanno Jinx Yasuo Sì 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 Sono molti Autotacker Anche a cave Akali Un po' di meno Però anche lei Autotacca Quindi Mettiamoci questo Va Mettiamoci questo Ora faccio la spirit E dovrei essere Dovrei già essere abbastanza grosso Mi dà un po' fastidio Che io abbia farmato male Però davvero Non mi aspettavo Non mi sono qui I danni da khali Non mi aspettavo I danni da khali Posso fare un tp? Non posso fare un tp Anzi Mi sa che devo andare top Mi sa che devo andare top Non voglio che la torre Mi vada Però non voglio Non mi spiegare Un teleport Ok Va bene No no ci arrivo La porterà a metà Però riesco a difenderla Ok Che importante Che io riesco a difenderla Sto andando Sto seguendo Perché voglio Non voglio Che vada Addosso A A Rumble Oh mio dio Che brutta mira Che brutta No Inutile Inseguirla Cioè inutile Che la inseguisco Stavo dicendo Inutile che la inseguo Anche io Baron Beh in effetti Sì sono morte Sì sono morte Sì sono morti Sì non è Ma abbiamo La medra In pusciata Chi ha chiamato Il Baron Non lo so Ma a me non pare Una colpa Bellissima Che caldo è Ma che gli ha Sta pushando troppo Per quello Potremmo anche farlo Visto che Sono morti Sia il carry Che il junger Però Peccato che mi sono lasciato Sfuggire a cali Così in quel modo brutto Almeno ora Non può più farmi all in Almeno ora Non può più farmi all in Qua Questo lo spariamo Qui Vediamo se c'è qualcosa Non c'è niente Benissimo Cali continua top Io non so Se sto facendo bene A fare una rotation Del genere Però forse Decisamente no No Ho sbagliato Ok basta così Basta così Basta così No Potevi ultare Se Rihanna ultava Ci facevamo gli aso Vabbè 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 Igualmente Ora potremmo andare Tutti quanti Botlane Tanto la mid Difesa da Yasuo e Akali Sarebbe inutile Andiamo di qua Dai Viamo Shyvana Dove stavi andando tu? Minchia Non ho veramente Danni Però va bene così Io non devo fare Danni Io sono solo Un tank gigante E do utilità I danni Sono l'ultima cosa Di cui ho bisogno Tanto abbiamo Rihanna Rumble E Jean E Sona Cioè il nostro team È full danno Sono solo io Ad essere un team Beh questo Questo si dai Va easy No Però non voglio Perché non voglio Agri di torri Inutile Però appena Ok ho sbagliato la Q Ok va bene Ogualmente Orca Troia I danni Akali Fa festa Qua Akali Fa festa Qua I Am dead Peccato Potevo Potevo Prendere Questo Inebito Abbiamo un po' Un pelo Over Exteso Abbiamo un pelo Vero Exteso Però va bene Uguale Allora Adesso io Mi faccio Uno bel ZZ Roth Anche se Mi faccio ZZ Ho poca vita Troppo poca vita Troppo poca vita No Mi faccio ZZ Perché Veramente Importante Io Non push Non push Molto forte Loro si Quindi se posso Mettere Uno ZZ Top Se posso Mettere Uno ZZ Top Poi Io Cosa faccio Tipo Qui Non Non posso No 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 Stavo Dicendo Mi faccio ZZ Rotolo Lo piace Tipo Top Le Che Vada Solo E Noi Ci Gruppiamo E Noi Ci Gruppiamo Tutti Quanti Tipo In Mid In Bot Meglio In Mid Perché C'è Da Fare Il Baron E Quindi Siamo Già Vicini Perché Se io Ho Un TP Che Non Sto Sfruttando Ma Al Momento Non Vedo Come Potrei Sfruttarlo Ok La Cali Sarà Vicina Beh Non Può Uccidermi No Non Può Uccidermi Forse Posso Farlo Io In 10 Forse Ho I Danni Per Farlo Eh Sì Boom No È Morta Di Non So Cosa Porca Troia Ho Sprecato Una Ult Però Sti Cazzo Ora Posso Ucciderla Tank Vince Barone Barbone 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 Affermati Dio Santo Non Posso Far Un Cazzo Perché Oddio Era una Tattica Era una Tattica Per avvicinar Mio I Oso Prenderlo Ma Che cazzo Scudo È Vabbè Raga Ma io E Le Q Non andiamo D'accordo Ok Niente A sto punto Pusciamo Io E le Q Non andiamo D'accordo Non ne ho Beccata Una Non ne ho Beccata Una Di Q Sono Veramente Enorme Comunque Sono Davvero Enorme Divino Faccio Cacare Però A fura Di assist Mi sono Fatto Questo Cosa E ora Ho ventuno In P2P Lasciatemi Tancare Con un Ancora In mano Sono Un Palombaro E ora Me ne vado Ehi La Ehi Uuu 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 Manca Che danni Che gli faccio Che danni Gli ho fatto Uuu Uuu Rekt Rekt Che danni Che gli faccio Adesso Ok Questo Poi E poi Basta Perché Non ho Più Un Cazzo No No Il Giuglielino Me lo Voglio Tenere Cioè Ho 8 Ass Mi da 24 In più Di AP E Non è Merda E poi Mi da Lining Power Mi va Benissimo Così No Non si Salverà Questa Torre Non si Salverà Questa Torre Madonna I Danni Che Fa Stotizio Ah Ok Ho Appena Visto Quello Che Adesso Ancora Non lo Detente Però Posso Aspettare Tanto Adesso Acari Non mi Si Fa Più 89 Di AP Non è Mica Poco Se Poi Aggiungo Il Fatto Che Dovrei Riuscire A Prendere Una Q Allora Questo Ap Riesco A Sfruttarla Però Se Sfruttarla Va Bene Mi Fa Il Cazzo Di Solletico Mi Fa La Torre Però No La Torre Dove Un Po Fa Danni La Torre Un Po Fa Danni Però E Bellissimo Vedere Che Adesso Mi Ok Sì Qua Dove Abbiamo Resteso Quindi Io Tecnicamente Non Sono Mai Morto Contro La Cali Mi Ha Ridotto In Fin Di Vita Molteplici Volte Ma Abbiamo Fatto Ace Interessante Mi Ha Ridotto In Fin Di Vita Molte Forse Non Sare Riuscito A Non Sare Riuscito A Dare Questa Utilità Al Fin Che Io Sembra Che Non Abbia Fatto Non Ho Fatto Un Cazzo Però Con Una Frontline Così Grossa Come Me Gene Avevamo La Pappa Pronta Cioè Ok Lui È Bravissimo Gen È Stato Bravo Mi Fate Ultare Per Ragazzi Io Spero Questo Video Vi Si Piaciuto Noi Ci Vediamo Al Prossimo